Davide domandò, c'è ancora qualche superstite della casa di Saul? Vorrei usargli misericordia a motivo di Gionata. La casa di Saul aveva un servo di nome Ziba che fu fatto venire da Davide. Il re gli domandò, sei tu Ziba? Quello rispose, sono io, tuo servo. Aggiunse il re, non c'è più nessuno della casa di Saul? Vorrei usare con lui la bontà di Dio. Ziba rispose al re, c'è ancora un figlio di Gionata con i piedi storpi. Il re gli domandò, dov'è? Ziba rispose, è in casa di Machir, figlio di Ammiel a Lodebar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Ammiel all'Odebar. Merib Baal, figlio di Gionata, figlio di Saul, arrivato da Davide, cadde sulla sua faccia e si prostrò. Davide disse, Merib Baal, rispose, ecco il tuo servo. Davide gli disse, non temere, perché voglio usare benevolenza con te a motivo di Gionata, tuo padre. Ti restituisco tutti i campi di Saul, tuo padre, e tu prenderai cibo sempre alla mia mensa. Egli si prostrò e disse, che cos'è il tuo servo, perché tu ti volga verso un cane morto quale sono io. Poi il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse, tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, lo do al figlio del tuo padrone. Lavorerai per lui la terra, tu, i tuoi figli e i tuoi servi, e il raccolto che ne riceverai assicurerai il cibo per la casa del tuo padrone che essa mangerà. Ma Merib Baal, figlio del tuo padrone, prenderà cibo sempre alla mia mensa. Ora Ziba aveva quindici figli e venti servi. Ziba rispose al re, il tuo servo farà tutto esattamente come il re mio signore ha comandato al suo servo. Così Merib Baal mangiava alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Merib Baal aveva un bambino di nome Micah. Tutti quelli che abitavano la casa di Ziba furono al servizio di Merib Baal, però Merib Baal risiedeva a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era storpio di tutti e due i piedi. Dopo questi fatti il re degli Ammoniti morì e suo figlio Canun diventò re al suo posto. Davide disse voglio usare benevolenza con Canun figlio di Nakas come suo padre usò benevolenza con me. Davide mandò i suoi servi a fargli le condoglianze per suo padre. Quando i servi di Davide giunsero nella terra degli Ammoniti, i capi degli Ammoniti dissero a Canun loro signore, forse Davide mandando a consolarti vuol rendere onore a tuo padre e alla tua presenza? Non è piuttosto per spiare la città, per esplorarla e poi distruggerla che Davide ti ha mandato i suoi servi? Allora Canun prese i servi di Davide, rase loro metà della barba e tagliò le loro vesti a metà fino alle natiche, poi li rimandò. Informato della cosa, Davide mandò alcuni ad incontrarli perché quegli uomini erano molto confusi. Il re ordinò loro, rimanete a Gerico finché vi ricresca la barba, poi ritornerete. Gli Ammoniti, accortisi di essersi resi odiosi a Davide, mandarono ad assoldare ventimila fanti degli Aramei di Bet-Re-Cobb e di Zobà. Mille uomini del re di Maacà e dodicimila uomini della gente di Tobb. Quando Davide ludì, spedì Gioab con tutto l'esercito e i prodi. Gli Ammoniti uscirono e si schierarono a battaglia all'ingresso della porta della città, mentre gli Aramei di Zobà, di Re-Cobb e la gente di Tobb e Maacà se ne stavano separati in campo aperto. Gioab, quando vide che aveva contro di sé due fronti di battaglia, uno davanti e uno di dietro, scelse tutte le migliori truppe di Israele e le schierò contro Aram e affidò il resto della truppa ad Abisai, suo fratello, perché lo schierasse contro gli Ammoniti. E disse, se Aram prevarrà su di me, tu mi verrai in aiuto. Se invece gli Ammoniti saranno più forti di te, allora io verrò in tuo aiuto. Coraggio, mostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio. Il Signore faccia poi quello che a lui piacerà. Gioab, col popolo che aveva con sé, avanzò in battaglia contro gli Aramei, i quali presero la fuga davanti a lui. Gli Ammoniti, quando videro che gli Aramei si erano dati alla fuga, fuggirono anch'essi davanti ad Abisai e rientrarono in città. Allora Gioab smise di attaccare gli Ammoniti e ritornò a Gerusalemme. Quando gli Aramei videro che erano stati battuti da Israele, si riunirono insieme. Adad Ezer mandò a mobilitare gli Aramei che erano di là del fiume. Essi giunsero a Kelam sotto la guida di Sobak, comandante dell'esercito di Adad Ezer. Davide lo seppe radunò tutto Israele e attraversato il Giordano andò a Kelam. Allora gli Aramei si schierarono contro Davide e gli dettero battaglia, ma gli Aramei dovettero fuggire davanti a Israele. Davide uccise 700 cavalli degli Aramei e 40.000 cavalieri. Colpì anche Sobak, capo del loro esercito che morì in quel luogo. Quando tutti i re tributari di Adad Ezer videro che erano rimasti sconfitti davanti a Israele, fecero pace con Israele e si assoggettarono. Così gli Aramei ebbero paura di andare ancora in aiuto degli Ammoniti. Al cominciare dell'anno, nel tempo che i re fanno spedizioni, Davide mandò Joab con i suoi servi e tutto Israele a devastare il paese degli Ammoniti. Essi posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide stava a Gerusalemme. Un pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, passeggiava sulla terrazza della reggia, quando vide dall'alto della terrazza una donna che si lavava. La donna aveva un aspetto molto bello. Davide mandò a prendere informazioni sulla donna e gli fu risposto. È Bezabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita. Davide mandò messaggeri per prenderla. Ella andò da lui ed egli dormì con lei, che si era appena purificata dalla sua immondezza. Poi fece ritorno a casa sua. La donna concepì e mandò a informare Davide. Sono incinta. Allora Davide ordinò a Joab, mandami Uria Littita. Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da lui, Davide gli domandò notizie sullo stato di Joab, del popolo e della guerra. Poi Davide disse a Uria, scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla casa del re, seguito da una porzione delle vivande del re. Ma Uria dormì all'ingresso della casa del re con tutti i servi del suo sovrano, senza scendere a casa sua. Ne informarono Davide dicendo, Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria, non vieni tu da un viaggio? Perché non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide, l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende. Il mio signore Joab e i servi del mio signore bivaccano in campo aperto, e io dovrei entrare nella mia casa per mangiare e bere e per dormire con mia moglie? Per te e per la tua vita non farò mai questa cosa. Davide disse a Uria, rimani qui anche oggi e domani ti rimanderò. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno successivo. Davide lo invitò a mangiare e a bere insieme con lui e lo ubriacò. Ma la sera uscì a dormire nel suo giaciglio insieme con i servi del suo sovrano e non discese a casa sua. L'indomani mattina Davide scrisse una lettera a Joab e la mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così, ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché sia colpito e muoia. Nel disporre la vigilanza alla città, Joab pose Uria nel luogo dove sapeva che vi erano uomini valorosi. Gli abitanti della città fecero un'irruzione e attaccarono Joab. Ci furono dei caduti tra il popolo, tra i servi di Davide e morì anche Uria Littita. Joab mandò a informare Davide su tutte le vicende della guerra. Dette quest'ordine al messaggero. Quando avrai finito di esporre al re tutte le vicende della guerra, se per caso scoppiasse l'ira del re e ti dicesse perché vi siete avvicinati alla città per combattere? Non sapevate che si scagliano saette dalle mura? Chi colpì Abimelech, figlio di Jerup Baal? Una donna non gli gettò addosso forse la mola superiore da sopra le mura e quello morì a Tebez. Perché vi siete avvicinati alle mura? Allora dirai, è morto anche il tuo servo Uria Littita. Il messaggero partì e andò a riferire a Davide tutto quello per cui Joab lo aveva inviato. Davide s'accese d'ira contro Joab e disse al messaggero, perché vi siete avvicinati alla città per combattere? Non sapevate che sareste stati colpiti dall'alto delle mura? Chi colpì Abimelech, figlio di Jerup Baal? Una donna non gli gettò forse addosso la mola superiore da sopra le mura? E quello morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati alle mura? Il messaggero spiegò a Davide. È stato che quegli uomini, essendo più forti di noi, sono usciti contro di noi in campo aperto, ma noi ci siamo rifatti contro di loro fino all'ingresso della porta. Allora gli arcieri hanno scagliato saette sui tuoi servi da sopra le mura. Davide disse al messaggero, così dirai a Joab, non ti sembri un grandanno quanto è accaduto, perché la spada divora ora questo ora quello. Riprendi con più lena la tua lotta contro la città e distruggila. Tu poi fagli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che suo marito Uria era morto, fece lamenti sul suo signore. Passato il lutto, Davide mandò a prenderla e l'accolse nella sua casa. Diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma questa azione compiuta da Davide fu cattiva agli occhi del Signore. Il Signore mandò a Davide Nathan, che entrato da lui disse, c'erano due uomini in una stessa città, uno ricco e uno povero. Il ricco possedeva greggi e armenti in grande abbondanza. Il povero non aveva che un'agnella, piccolina, che aveva comprato. L'aveva nutrita ed era cresciuta insieme con lui e con i suoi figli. Mangiava dal suo piatto, beveva dal suo bicchiere e dormiva sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante giunse dall'uomo ricco. Questi però non andò a prendere del suo gregge e del suo armento per preparare all'ospite venuto da lui, ma prese l'agnella di quel povero e la preparò per l'uomo venuto da lui. Davide arse d'ira contro quell'uomo e disse a Nathan, per la vita del Signore, l'uomo che ha fatto questo è certamente degno di morte. Pagherà quattro volte l'agnella per aver compiuto un tale misfatto e per non aver avuto compassione. Nathan rispose a Davide, sei tu quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele, io ti ho consacrato re su Israele e ti ho strappato dalla mano di Saul. Ti ho consegnato la casa del tuo Signore e le mogli del tuo Signore nel tuo seno. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda e se è poco ti aggiungerei altre cose. Perché dunque hai disprezzato il Signore compiendo ciò che è male ai Suoi occhi? Hai colpito con la spada Uria Littita, ti sei preso per moglie la sua moglie e l'hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. Ma ora non si allontanerà mai più la spada dalla tua casa, perché mi hai disprezzato prendendo la moglie di Uria Littita per farla tua moglie. Così dice il Signore, Ecco, io farò sorgere contro di te la sventura dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi e le darò ad un altro che giacerà con le tue donne alla luce di questo sole. Sì, tu hai agito di nascosto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Davide disse a Nathan, Ho peccato contro il Signore. Nathan rispose a Davide, Il Signore cancella il tuo peccato, non morrai, ma perché tu hai disprezzato il Signore con questa azione, il figlio che ti è nato morrà. Nathan tornò a casa sua. Il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva generato a Davide ed esso si ammalò. Davide si rivolse a Dio in favore del bambino, digiunò rigorosamente, si ritirò e passò la notte giacendo per terra. Gli anziani della sua casa fecero insistenza su di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non assaggiò cibo con loro. Al settimo giorno il bambino morì e i servi di Davide ebbero timore di annunziargli che il bambino era morto, perché dicevano, Ecco, quando il bambino era vivo gli abbiamo parlato, ma non ha dato ascolto alla nostra voce. Come potremo dirgli il bambino è morto? Farà qualche sproposito. Davide, accortosi che i servi stavano parlottando, capì che il bambino era morto e domandò ai servi, È morto il bambino? Risposero, È morto. Allora Davide, alzatosi da terra, si lavò, si unse e cambiate le sue vesti, entrò nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato a casa, chiese che gli presentassero il cibo e mangiò. I servi gli domandarono, che è questo tuo modo di agire? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, ora invece che il bambino è morto, ti alzi e prendi cibo. Rispose, quando il bambino era ancora vivo ho digiunato e pianto perché pensavo, chissà, il Signore potrebbe aver compassione di me e lasciar vivere il bambino. Ma ora è morto, perché dovrei digiunare? Potrei forse farlo ancora ritornare? Io andrò da lui, ma lui non ritornerà da me. Poi Davide consolò Betsabea, sua moglie, andò da lei e dormì insieme. Ella generò un figlio, al quale pose nome Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan che gli impose il nome di Iedidia, per ordine del Signore. Intanto Joab aveva combattuto contro Rabbà degli Ammoniti e aveva preso la città delle acque. Allora Joab mandò dei messaggeri a Davide per dirgli, ho combattuto contro Rabbà e ho già preso la città delle acque. Ora raduna il resto del popolo, poni il campo contro la città e occupala, altrimenti prenderò io la città ed essa verrà chiamata con il mio nome. Allora Davide, radunato tutto il popolo, andò a Rabbà, combatté contro di essa e la occupò. Tolse dalla testa di Milcom la corona che pesava un talento d'oro e conteneva una pietra preziosa. Essa fu posta sulla testa di Davide. La preda asportata dalla città fu molto grande. La popolazione che vi era la deportò e la sottopose al lavoro della sega, dell'ascia di ferro, della scure di ferro e la pose alla lavorazione dei mattoni. Così trattò pure tutte le città degli Ammoniti. Poi Davide ritornò con tutto il popolo a Gerusalemme. Ecco quel che avvenne in seguito. Assalonne, figlio di Davide, aveva una bella sorella di nome Tamar e Amnon, figlio di Davide, se ne innamorò. Spasimò tanto che si ammalò a causa di Tamar, sua sorella, perché essendo vergine rimaneva difficile agli occhi di Amnon farle qualche cosa. Amnon però aveva un amico di nome Ionadab, figlio di Simea, fratello di Davide. Ionadab, uomo molto astuto, gli domandò, perché ti consumi di giorno in giorno, o figlio del re? Non me lo puoi dire? Gli rispose Amnon, sono innamorato di Tamar, sorella di Assalonne, mio fratello. Ionadab soggiunse, mettiti a letto e datti per malato. Tuo padre verrà a vederti e tu gli dirai, venga per piacere Tamar, mia sorella, a portarmi da mangiare. Preparerai il cibo adatto sotto i miei occhi, perché io possa vedere e mangiare dalla sua mano. Amnon si mise a letto e si dette per malato. Allora il re andò a fargli visita e Amnon disse al re, venga per favore Tamar, mia sorella, a preparare sotto i miei occhi due tortelle e riuscirò a prendere cibo dalla sua mano. Davide mandò a dire a Tamar in casa, va alla casa di Amnon, tuo fratello, e preparagli il cibo adatto. Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che si trovava a letto. Prese la farina e la impastò, preparò le tortelle sotto i suoi occhi e le cosse. Poi prese la padella e le versò davanti a lui, ma Amnon ricusò di mangiare e dette quest'ordine, fate uscire tutti d'attorno a me. Ognuno uscì d'attorno a lui. Amnon disse a Tamar, portami il cibo in camera e mangerò dalla tua mano. Allora Tamar prese le tortelle che aveva fatto e le portò in camera a Amnon, suo fratello. Mentre gliele porgeva a mangiare, egli la ferrò e le disse, vieni, giaci con me, sorella mia. Ella gli rispose, no, fratello mio, non mi fare violenza, perché non si usa far così in Israele. Non commettere questa stoltezza. Io dove andrei a portare la mia vergogna? E tu saresti come uno degli stolti in Israele. Parlane piuttosto al re, che non mi impedirà di essere tua. Ma egli non volle ascoltarla. Prevalse su di lei e le fece violenza giacendo con lei. Poi Amnon prese a odiarla di un odio molto grande. L'odio con cui l'odiava era maggiore dell'amore con cui l'aveva amata. Amnon le disse, alzati, vattene. Ella gli rispose, non essere causa di questo male, di cacciarmi via, sarebbe peggiore dell'altro che hai fatto con me. Ma egli non volle darle ascolto. Chiamato il giovane che lo serviva, gli disse, caccia fuori costei e chiudi la porta dietro di lei. Ella indossava un'ampia tunica perché così vestivano le figlie del re ancora vergini. Il servo la cacciò fuori e chiuse la porta dietro di lei. Allora Tamar si cosparse la testa di polvere, stracciò l'ampia tunica che indossava e con le mani in testa se ne andò gridando. Suo fratello Assalonne le domandò, forse tuo fratello Amnon è stato con te? Per ora fa silenzio, sorella mia, egli è tuo fratello. Non ti accorare per questo fatto. E Tamar se ne rimase desolata in casa di Assalonne, suo fratello. Il re Davide seppe tutto l'accaduto e se ne adirò assai, ma non volle urtare suo figlio Amnon che egli amava molto perché era il suo primogenito. Assalonne non parlò più con Amnon, né in male né in bene, perché Assalonne aveva preso in odio Amnon per la violenza che egli aveva fatto a Tamar, sua sorella. Passarono due anni. Assalonne, avendo i tosatori a Baal-Azor presso Efraim, invitò tutti i figli del re. Assalonne andò dal re e disse, ecco il tuo servo ha i tosatori, il re si degni di venire con i suoi servi presso il tuo servo. Il re rispose ad Assalonne, no figlio mio, non veniamo tutti noi per non esserti di peso. Egli insistette presso di lui, ma non volle andare e gli dette la benedizione. Assalonne soggiunse, se è no, venga con noi almeno Amnon, mio fratello. Gli rispose il re, perché dovrebbe venire con te? Assalonne insistè tanto che il re mandò con lui Amnon insieme con tutti i figli del re. Assalonne fece un convito da re. Assalonne dette ordine ai suoi servi, guardate, quando il cuore di Amnon sarà allegro per il vino e vi dirò colpite Amnon, uccidetelo, non abbiate timore. Non sono io che ve lo comando? Siate forti e uomini valorosi. I servi di Assalonne fecero a Amnon come aveva loro comandato a Assalonne. Allora tutti i figli del re si alzarono e saliti ognuno sul proprio mulo si dettero alla fuga. Mentre essi erano per via, giunse al re questa notizia. Assalonne ha ucciso tutti i figli del re, non ne è rimasto neppure uno. Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si metto a terra. Anche i suoi servi stavano lì tutti con le vesti stracciate. Allora Ionadab, figlio di Simea, fratello di Davide, disse, non dica il mio signore, hanno ucciso tutti i giovani, i figli del re. È morto solo Amnon, perché per Assalonne ciò era stabilito fin dal giorno in cui Amnon aveva fatto violenza a Tamar, sua sorella. E ora il re mio signore non si ponga in cuore una tal cosa dicendo sono morti tutti i figli del re, perché solo Amnon è morto e Assalonne si è dato alla fuga. Il giovane che era di sentinella alzò i suoi occhi per osservare. Ed ecco, molta gente veniva per la via di Bakurim dal lato del monte. Allora Ionadab disse al re, ecco che giungono i figli del re, è avvenuto come ha detto il tuo servo. Finito che ebbe di parlare, ecco arrivare i figli del re, che si misero a piangere ad alta voce. Anche il re e tutti i suoi servi si misero a piangere dirottamente. Assalonne intanto era fuggito per recarsi presso Talmai, figlio di Ammiud, re di Gesur. Il re fece lutto per suo figlio per lunghi giorni. Assalonne rimase tre anni a Gesur dove era fuggito. Poi lo spirito del re cessò di insorgere contro Assalonne perché si era ormai consolato della morte di Amnon. Joab figlio di Zeruià si era accorto che il cuore del re si volgeva verso Assalonne. Allora Joab mandò a prendere a Tecoa un'abile donna alla quale disse, su assumi un aspetto triste. Indossa vesti di lutto, non ungerti con olio e mostrati come una donna che fa lutto da molto tempo su di un morto. Andrai dal re e gli parlerai in questo modo e Joab le suggerì le parole da dire. Allora la donna di Tecoa entrò dal re prostrandosi con la faccia a terra e adorando. Gridò, aiuto o re. Il re le disse, che cos'hai? Rispose, oimè, io sono una vedova, mio marito è morto, la tua serva aveva due figli. I due hanno litigato nella campagna dove nessuno poteva intervenire tra loro, uno ha colpito l'altro e l'ha ucciso. Ed ecco, tutta la parentela è insorta contro la tua serva dicendo, consegnaci l'uccisore di suo fratello, dobbiamo farlo morire per la vita di suo fratello che egli ha ucciso. Faranno così scomparire anche le rede ed estingueranno la scintilla che mi è rimasta senza lasciare a mio marito né un nome né una posterità sulla faccia della terra. Il re disse alla donna, ritorna a casa tua, che io darò ordini a tuo riguardo. La donna di Tecoa soggiunse al re, signore mio, la colpa sia su di me e sulla casa di mio padre, il re e il suo trono ne sono innocenti. Il re riprese, se qualcuno te ne parlerà, conducilo da me e non oserà più toccarti. E la chiese, il re nomini per favore il signore tuo Dio affinché il vindici del sangue non moltiplichi la strage e non si faccia a scomparire mio figlio. Quello disse, per la vita del signore neppure un capello di tuo figlio cadrà a terra. La donna soggiunse, permetti che la tua serva rivolga al mio signore, il re, una parola. Egli rispose, parla. Allora la donna disse, perché hai pensato una cosa come questa contro il popolo di Dio? Il re, proferendo questa sentenza, è quasi colpevole di non far ritornare colui che il re ha mandato in esilio. Difatti dobbiamo morire, e come l'acqua versata a terra non si può più raccogliere, così Dio non ridà l'anima. Il re, escogiti dunque i modi affinché non resti in esilio, lontano da noi, colui che fu esiliato. Ora dunque sono venuta a dire al re mio signore questa cosa, perché certa gente mi ha messo paura. La tua serva ha pensato, voglio parlare al re, forse egli seguirà il consiglio della sua serva. Se il re ascolta e libera la sua serva dalla mano di quell'uomo che vuol togliere via me e mio figlio insieme dall'eredità di Dio, la tua serva si è detta. Possa la parola del re mio signore essere causa di tranquillità, perché, come è un angelo di Dio, così è il re mio signore per giudicare il bene e il male. Il signore tuo Dio sia con te. Il re domandò alla donna, su, non mi nascondere niente di quello che ti chiedo. La donna rispose, Parli pure il re mio signore. Disse il re, La mano di Joab non è forse con te in tutto questo? La donna rispose, Per la vita tua, o re mio signore, non si può andare né a destra né a sinistra da tutto quello che ha detto il re mio signore. Sì, il tuo servo Joab, lui, me l'ha comandato e ha posto in bocca alla tua serva tutte queste parole. Per cambiare aspetto alla vicenda, il tuo servo Joab ha fatto questo, ma il mio signore è sapiente della sapienza dell'angelo di Dio per capire tutto quello che vi è sulla terra. Allora il re disse a Joab, Ecco dunque, ho deciso la questione. Va e fa tornare il giovane a Salonne. Joab, prostratosi con la faccia a terra, fece adorazione e benedisse il re, poi soggiunse, Oggi il tuo servo sa di aver trovato benevolenza ai tuoi occhi, o re mio signore, poiché il re fa eseguire il consiglio del suo servo. Poi Joab si alzò e andò a Gesur e ricondusse a Salonne a Gerusalemme. Ma il re disse, Vada nella sua casa, non potrà vedere il mio volto. a Salonne andò nella sua casa, senza vedere il volto del re. Non vi era in tutto Israele un uomo bello come a Salonne, degno di grande lode. Dalla pianta dei piedi, alla sommità del capo, non vi era in lui un difetto. quando si radeva il capo, si faceva radere il capo ogni anno perché la capigliatura era pesante, egli pesava la capigliatura della sua testa, duecento sicli al peso regio. A Salonne ebbe tre figli e una figlia di nome Tamar, che fu una donna di bell'aspetto. A Salonne abitò a Gerusalemme due anni senza poter vedere il volto del re. Allora a Salonne convocò Joab per inviarlo al re, ma questi non volle andare da lui. Lo convocò una seconda volta, ma egli non volle andare. Allora disse ai suoi serbi, vedete la proprietà di Joab accanto alla mia dove egli ha l'orzo, andate e appiccatevi il fuoco. I serbi di a Salonne appiccarono il fuoco al campo. Allora Joab si levò e andò a casa di a Salonne per dirgli perché i tuoi servi hanno appiccato il fuoco alla mia proprietà. A Salonne rispose a Joab, ecco, ti avevo mandato a dire, vieni qua, ti voglio mandare dal re per dirgli perché sono tornato da Gesur, sarebbe meglio per me che fossi ancora là. Ora voglio vedere il volto del re e se c'è in me colpa, mi faccia morire. Allora Joab andò dal re e lo informò. Questi fece chiamare a Salonne che entrò dal re e si prostrò davanti a lui con la faccia a terra. Poi il re baciò a Salonne. In seguito a Salonne si preparò un carro, cavalli e cinquanta uomini che corressero davanti a lui. A Salonne si alzava presto e si poneva al lato della strada di accesso alla porta della città. Così, se uno aveva una causa e doveva andare dal re per il giudizio, a Salonne lo chiamava e gli diceva «Di quale città sei?» Rispondeva «Il tuo servo è di una tribù di Israele». a Salonne gli diceva «Vedi, le tue richieste sono buone e giuste, ma tu non hai chi ti ascolti da parte del re». Poi a Salonne esclamava «Chi mi costituirà giudice nel paese? A me potrebbe venire ognuno che avesse una lite e un giudizio e gli renderei giustizia». Avveniva che quando qualcuno si avvicinava per prostarsi davanti a lui, egli allungava la mano, lo prendeva e lo baciava. In questo modo, a Salonne agiva con ogni israelita che veniva dal re per il giudizio e così a Salonne seduceva il cuore degli uomini di Israele. Quattro anni dopo, a Salonne disse al re «Lascia che io vada a compiere a Ebron il mio voto che fece al Signore. Infatti il tuo servo ha fatto questo voto durante la permanenza a Gesur in Aram. Se il Signore mi ricondurrà a Gerusalemme, sacrificherò al Signore in Ebron». Il re gli disse «Vai in pace». Egli si mosse per andare a Ebron, ma a Salonne mandò emissari in tutte le tribù di Israele a dire «Quando sentirete il suono del corno direte «A Salonne è diventato re a Ebron». Con la Salonne erano andate da Gerusalemme 200 persone che, essendo invitate, vi andarono ingenuamente senza sapere niente». Nella circostanza dell'offerta dei suoi sacrifici, a Salonne mandò a chiamare a Kitofel il Ghilonita, consigliere di Davide, dalla sua città di Ghilo. Così la cospirazione si consolidò e il popolo andò sempre più aumentando intorno ad Assalonne. Un messaggero andò da Davide per dirgli «Il cuore di ogni israelita segue Assalonne». Allora Davide disse a tutti i servi che erano con lui a Gerusalemme «Su, fuggiamo, perché non abbiamo scampo davanti ad Assalonne. Affrettatevi a partire, perché non ci colga all'improvviso e faccia cadere su di noi il disastro e colpisca la città a fil di spada». I servi del re risposero «Come decide in tutto il re mio signore «Ecco, noi siamo tuoi servi». Così il re uscì a piedi con tutta la sua famiglia ma lasciò dieci concubini a custodire la casa. Il re uscì dunque a piedi con tutto il popolo e si fermarono all'ultima casa. Tutti i suoi servi sfilavano accanto a lui, «Anche tutti i cretei e i peletei e tutti i gattiti, seicento uomini che l'aveva seguito da Gat sfilavano al cospetto del re». Allora il re disse a Ittai di Gat «Perché vieni anche tu con noi? Torna e rimani con il re perché tu sei forestiero ed esure dal tuo paese. Sei venuto appena ieri e oggi dovrai farti vagare con noi mentre io vado all'avventura? Ritorna e porta i tuoi fratelli con te. Il Signore usi con te misericordia e fedeltà». Ma Ittai rispose al re «Per la vita del Signore e per la vita del re mio Signore dovunque sarà il re mio Signore sia per la morte che per la vita là sarà il tuo servo». Allora Davide disse a Ittai «Avanti, passa!» Ittai di Gat passò insieme con i suoi uomini e con la famiglia che era con lui. Tutti piangevano ad alta voce mentre tutto il popolo sfilava. Il re stava in piedi nella valle del Cedron mentre tutto il popolo passava davanti a lui diretto verso il deserto. «Ecco anche Zadok e tutti i leviti addetti al trasporto dell'arca del patto di Dio deposero l'arca di Dio presso Ebiatar finché tutto il popolo finì di uscire dalla città». Il re disse a Zadok «Riporta l'arca di Dio in città «Se troverò grazie agli occhi del Signore egli mi farà ritornare e me la farà rivedere insieme con la sua abitazione ma se dirà «Non mi compiaccio più in te eccomi, faccia di me come pare bene ai suoi occhi». Il re disse al sacerdote Zadok «Vedi, torna in pace nella città». «Achimaz, tuo figlio e Gionata, figlio di Ebiatar vostri due figli sono con voi vedete io mi fermo presso i guadi del deserto finché non arrivi da parte vostra una parola per informarmi». Allora Zadok ed Ebiatar riportarono l'arca di Dio a Gerusalemme e rimasero là. Davide saliva alerta degli olivi saliva piangendo a capo coperto e procedeva scalzo tutto il popolo che era con lui si coprì il capo e salì piangendo continuamente uno riferì a Davide «Achitofel è tra i congiurati con Assalonne» allora Davide esclamò «Dè, rendi vano il consiglio di Achitofel, o Signore» mentre Davide giungeva alla cima dove si adora Dio ecco che Cusai l'archita gli si fece incontro con la veste stracciata e con la polvere sul capo Davide gli disse «Se tu proseguissi con me mi saresti di peso ma se torni in città e dici ad Assalonne io sono tuo servo, o re io fui in passato servo di tuo padre ma ora sarò servo tuo allora renderesti vano il consiglio di Achitofel non sono là con te i sacerdoti Zadok ed Ebiatar? allora tutto quello che udrai dalla casa del re lo riferirai ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar ecco sono là con essi i loro due figli Achimaz di Zadok e Gionata di Ebiatar per mezzo loro mi farete sapere tutto quello che sentirete Usai amico di Davide arrivò in città mentre Assalonne entrava a Gerusalemme Davide aveva oltrepassato di un poco la sommità quando ecco Ziba servo di Merib Baal venire incontro a lui con un paio di asini sellati carichi di duecento pani cento grappoli d'uva passita cento frutti d'estate e un otre di vino il re disse a Ziba tu cosa sono queste cose? Ziba rispose gli asini sono per cavalcatura alla casa del re il pane e la frutta per cibo dei giovani e il vino perché lo beva chi è stanco nel deserto il re domandò dov'è il figlio del tuo signore? Ziba rispose al re ecco è rimasto a Gerusalemme perché ha detto oggi la casa di Israele mi restituirà il regno di mio padre il re disse a Ziba ecco tutto quello che possiede Merib Baal è tuo Ziba esclamò io mi prostro possa io trovare grazie ai tuoi occhi o re mio signore quando Davide giunse a Bakurim ecco uscire di là un uomo della stirpe della casa di Saul di nome Simei figlio di Gera usciva lanciando maledizioni gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra così diceva Simei nella sua maledizione esci esci sanguinario scellerato il signore ha fatto ricadere su di te tutto il sangue della casa di Saul al cui posto hai regnato il signore ha dato il regno in mano ad Assalonne tuo figlio ed eccoti nella sventura perché sei un sanguinario Abisai figlio di Zeruià disse al re perché quel cane morto deve maledire il re mio signore lascia che io vada a troncargli la testa ma il re rispose che ho io con voi figli di Zeruià se egli maledice e se il signore gli dice maledici Davide chi potrebbe dire perché fai così poi Davide soggiunse ad Abisai e a tutti i suoi serbi ecco mio figlio che è uscito dal mio seno attenta alla mia vita quanto più ora un bene amminita lasciatelo che maledica perché glielo ha ordinato il signore forse il signore vedrà la mia afflizione e mi renderà il bene al posto della sua maledizione di questo giorno Davide seguitò con i suoi uomini il cammino mentre Simei camminava sul fianco del monte di rimpetto a lui sempre maledicendo e lanciando sassi verso di lui e gettando polvere il re e tutto il popolo che era con lui giunsero stanchi presso il Giordano e là si riposarono Assalonne e tutto il popolo israelita erano arrivati a Gerusalemme Achitofel era con lui ora quando Cusai l'archita amico di Davide si presentò ad Assalonne disse ad Assalonne viva il re viva il re Assalonne disse a Cusai questo è l'amore che porti al tuo amico perché non sei andato con il tuo amico Cusai rispose ad Assalonne no perché voglio essere di colui che il Signore ha scelto e di questo popolo e di tutti gli uomini di Israele e con lui rimarrò e poi chi devo servire non è forse suo figlio come fui al servizio di tuo padre così lo sarò di te allora Assalonne disse a Achitofel tenete consiglio tra voi cosa dobbiamo fare Achitofel disse ad Assalonne vada alle concubine di tuo padre che egli lasciò a custodire la casa e così tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre e si rafforzerà l'ardire di tutti i tuoi partigiani fissarono sulla terrazza la tenda per Assalonne e Assalonne entrò dalle concubine di suo padre sotto gli occhi di tutto Israele il consiglio che Achitofel dava in quel periodo era come la consultazione della parola di Dio così era ogni consiglio di Achitofel sia per Davide che per Assalonne di Achitofel di Achitofel Grazie a tutti.